Oggi scriveremo sul quaderno le sillabe ma me mi mo mu allora ricordiamo che sul quaderno abbiamo la linea verde che è il nostro punto di partenza la linea rossa dove ci dobbiamo fermare la linea del cielo dove partono le nostre letterine e la linea della terra allora ricordate le vocali che scendevano dall'elicottero e si fermavano sulla linea del cielo anche la nostra scende come un puntino e poi stende la sua prima gambetta verso la linea della terra attraversa l'aria e si ferma sulla linea della terra poi da qui riparte una gambina che va in obliquo vedete e poi risale su sempre in obliquo e poi scende di nuovo giù fino a toccare la linea della terra ecco che abbiamo scritto la m accompagna la m la vocale a ricordate dal puntino si allunga una gambetta si allunga un'altra gambetta e mettiamo un bastoncino che le tiene bene su ora facciamo un altro puntino facciamo stendere la gamba della m poi facciamo una gambetta obliqua un'altra obliqua e una che scende giù fino alla terra e l'accompagniamo con la vocale e ricordate un puntino che tocca il cielo attraversa l'aria e tocca poi la terra e poi c'è un braccio che si stende in avanti e ancora un altro e ancora un altro adesso facciamo un'altra ma ripartiamo dal puntino lo facciamo scendere attraverso l'aria tocca la terra facciamo un'altra linea obliqua risaliamo su verso il cielo con una linea obliqua e poi scendiamo di nuovo giù verso la terra e questa letterina m la accompagna alla vocale i un puntino che scende giù in verticale fino alla terra ecco la sillaba mi ora facciamo un'altra m ripartiamo dal cielo scendiamo giù in verticale tocchiamo terra facciamo una gambetta obliqua un'altra che sale su verso il cielo e poi riscendiamo giù verso la terra ecco qui un'altra m e adesso con un puntino facciamo un giro che si chiude di nuovo al cielo e abbiamo scritto la o ecco la sillaba ma l'ultima sillaba che scriviamo cominciamo con la m scendiamo giù con la gambina che attraversa l'aria si ferma sulla terra poi va in obliquo ancora ritorna su verso il cielo e poi riscende sulla terra e ricordate la lettera u parte dal puntino e poi risale verso il cielo ma resta aperta ecco qui la u abbiamo scritto la sillaba mu ma me mi mò mu mu fille